Buonasera, buonasera, buon appetito, grazie per l'applausi, non sprecatevi tanto, piano, allora, cosa ti devo dire? Parla, dimmi qualcosa a te, allora, no, e lui chi è? Io sono Beppe, il presentatore di quest'anno, sei Beppe, Beppe, un applauso, no, aspettate, scusa, ogni anno abbiamo una ragazzina, quest'anno mi presenti Beppe, allora, a parte che te sei sempre un galetto e sei sempre a stuzzicare con i ragazzini, ho capito, ma, allora, il discorso è questo, sai qual è la filosofia del Clevar Bissola? Un palco per tutti, certo, qualche anno fa l'abbiamo dato anche a te, sei diventato poi il presentatore ufficiale, quest'anno lo diamo a Beppe, siete alla pari, voi mica prende il mio posto, ci mancherà, ciao Beppe, un applauso a Beppe, ok, io adesso vi lascio e partiamo con la manifestazione Va bene, allora, intanto, come ha detto Fabio, no, e anche l'assessore Molino, noi adesso andiamo avanti, diciamo, con la serata, presentiamo subito i nostri giurati, eh, il presento io? Sì, presento io, il presento io, però, un po' più voce, cioè, ok, un po' più voce, cioè Beppe, allora, cominciamo a presentare, con un applauso, il signor Rossello Antonio, presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri In piedi, grazie per essere intervenuto, dopo abbiamo il signor Stefano Bazzucco, musicista, che rappresenta i giovani Poi abbiamo il signor Piemontino Benito, rappresentante dell'Avis Buonasera, signor Benito E poi, questa sera abbiamo un grande artista, Ivan Cuvato, maestro ceramista Pittore, donaiolo, tutto Un grande, un grande Bene Allora, partiamo subito? Aspettiamo, aspetta che Prima dobbiamo dire cosa vincono i nostri concorrenti Mi sembra giusto Mi sembra giusto? Mi sembra giusto Bene, Beppe Allora, il primo premio consiste, Beppe, un weekend in Toscana per due persone, presso l'hotel Meridiana Country Un applauso E non è brutto E' un brutto premio Non è un brutto premio Poi, poi è offerto da Paturs, agenzia di viaggi, in corso Bazzini, a Rebistola Superiore Va bene? Va bene Abbiamo il premio Cantautori E' un'opera offerta realizzata esclusivamente per l'occasione dal maestro artista Ivan Cuvato Un applauso Bravo Il secondo premio Vaso in ceramica offerto da TL2 Ceramica in via 4 novembre ad Albistola Capo Terzo premio Vaso in maionica offerto dal maestro Francesco Guarino di Albistola Superiore Lo conosci? No No Poi te lo presenterò Perfetto Quarto premio per i gruppi Un piatto in ceramica offerto da ceramiche per Luca, Pierluca di Albistola Marina Un applauso Al quinto premio, al partecipante più simpatico, eh? Che non sei te Offerto da Soraya, ceramiche di Albistola Superiore Un grosso applauso, così salutiamo tutti E andiamo al sesto premio per il partecipante più piccolo, che sei te Grazie Abbiamo una cena offerta per due persone O per una? Per due Offerta dalla pizzeria La Meridiana Ma non si scherza, ci fa sul serio Grazie Prego Allora, io devo subito di iniziare col primo concorrente Con grosso applauso Bevi l'acqua, Luigi Chiama, bevi, chiama Luigi 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 Ci sei? Batto il colpo Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.